Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e Bivio 11 a 1, tutto in direzione di Firenze. Infipilico di attratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci ancora una volta verso il capoluogo. Segnaliamo inoltre che sta piovendo tra Gello e Livorno Centro, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze e segnaliamo modifiche alla mobilità in zona Sant'Orsola per affissioni pannellature da oggi a mercoledì 5 settembre. E ancora i provvedimenti di circolazione per lavori di e-distribuzione in via Pisana. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!